Caldo d'allerta rossa, da domani si sfiorano i 40 gradi. Sbarchi migranti, anche la provincia si prepara l'accoglienza. Incidente stradale in campagna, muore ex portiere del Mondolfo. Arrivano fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vallefoglia si prepara ad un sabato di notte bianca. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa serata di martedì 11 luglio apriamo occupandoci dell'ondata di caldo che in questa settimana si sta accanendo sul nostro territorio. Temperature anche oggi stabilmente sopra i 30 gradi che andranno però ad alzarsi ulteriormente nei prossimi due giorni. La protezione civile delle marche ha emesso oggi un bollettino di criticità rossa per le ondate di calore che si verificheranno domani 12 luglio. Giornata di mercoledì che alle 14 vedrà il terremometro di peso che toccare i 36-37 gradi con oltre 40 percepiti. Temperature che nelle marche saranno ancora più alte nella città di Fabriano dove la massima sarà di 39 gradi. Una situazione che si manterrà stabile anche nella giornata di giovedì. Stanno aumentando gli sbarchi nel Mediterraneo e anche la provincia di Pesaro Urbino si prepara ad accogliere migranti come da direttive governative. Il Mediterraneo registra una nuova intensificazione di sbarchi di migranti sulle coste italiane e anche la provincia di Pesaro Urbino si attrezza per individuare strutture destinate all'accoglienza temporanea di migranti rispondendo alle più recenti leggi governative in materia di ripartizione territoriale della macchina dell'accoglienza. Un piano d'azione che il prefetto Emanuela Saveria Greco ha già avviato nel weekend confrontandosi con i presidenti degli ambiti territoriali e sociali e che continua con i sopralluoghi nei territori per individuare le soluzioni più adeguate. Un piano che è strutturato sotto diversi profili. Intanto adesso sentirò i sindaci e devo dire, guardi, veramente li ringrazio perché quelli che ho già sentito mi hanno messo a disposizione già degli alloggi. sentirò tutti i sindaci uno per uno e insieme a loro troveremo delle sistemazioni, delle abitazioni per le donne, gli uomini, i bambini, i ragazzi, per tutti coloro che fuggono da posti e da violenze indicibili e che abbiamo il dovere come esseri umani di accogliere. Io penso che sia fondamentale l'integrazione ma non a parole. L'integrazione nei fatti quindi adesso andrò in settimana in un comune dove sono arrivati appunto sei migranti, quattro donne e due uomini e andrò di persona a rendermi conto di come sono accolti e delle possibilità che abbiamo per poterli integrare al meglio. Nel primo pomeriggio di oggi è stata revocata l'ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione a Baia Flaminia dallo scorso sabato 8 luglio. Come certificato dall'ARPAM che ieri ha effettuato gli ultimi controlli, i valori sono rientrati nella norma consentendo la normale fruizione delle acque dopo i picchi di inquinamento toccati nelle giornate scorse. Mondolfo piange la scomparsa di Festus Nortei, 31enne originario del Gambia, cresciuto a Marotta, che domenica ha perso la vita in un incidente stradale in campagna sulla strada provinciale per Mondragone. Festus era stato anche il portiere di calcio della squadra dell'Amaroso Mondolfo e nei tempi più recenti si era trasferito in campagna per motivi di lavoro. È morto mentre all'alba era al volante di una Fiat 500L che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un furgone. A bordo assieme a Festus anche altri tre giovani di Cajanello rimasti gravemente feriti, da decidere la data del funerale che si svolgerà a Mondolfo. Sono in arrivo fondi regionali per l'abbattimento e la eliminazione delle barriere architettoniche, un importante intervento nel segno di un senso civico crescente sul nostro territorio. Sono 103 i comuni marchigiani che beneficeranno del riparto di contributi per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati derivanti dal Fondo Speciale Nazionale. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi dichiarando un ammontare destinato alle marche di 1.300.000 euro. Nello specifico di Pesaro arriveranno 124.000 euro per cercare di dare una spinta ulteriore di accessibilità ad una realtà che già dalla definizione del PEBA, ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ha da tempo impresso un colpo di reni di sensibilità su questa tematica. Pesaro, io ho girato tanto anche per le attività che ho seguito in passato, Pesaro è molto avanti rispetto a tante altre città, soprattutto se guardiamo l'Italia purtroppo meridionale è molto indietro, molti centri non sono accessibili, hanno problematiche importanti. Pesaro è abbastanza avanti, anche perché in effetti è da 30 anni che portiamo avanti battaglie sulla sensibilità. Però ancora tanto c'è da fare, tanto, veramente tanto, perché abbiamo messo in evidenza qualche giorno fa il problema della farmacia, della sanità territoriale. Abbiamo già pronte altre due denunce che dimostrano che anche oggi si continuano a creare nuove barriere e questo non è accettabile. Sì, sono tanti, il trasporto pubblico è uno dei temi perché l'autonomia, parliamo di PEBA, l'eliminazione delle barriere che non è solo rivolto alla disabilità ma a tutti e quindi il trasporto pubblico è un tema estremamente importante e sono tanti, penso anche ai tirocini di inclusione sociale, cioè agli strumenti di lavoro per persone con disabilità è un progetto che viene costruito sulla persona e anche qui abbiamo quest'anno il doppio delle risorse e avremo un milione e otto da investire in queste progettualità. Quindi sono tanti tasselli, c'è la città, ci sono le rampe d'accesso, c'è il mondo del privato che deve essere accessibile ai ristoranti, a tutti, c'è una parte tecnica, ad esempio il PEBA va a incidere lì, va a dare indicazioni tecniche, c'è una parte culturale che è quella di sensibilizzare tutti a queste tematiche che sono non di chi ha disabilità ma sono di tutti. Il video che vi stiamo per mostrare è stato invece girato in diretta a Facebook questo pomeriggio dall'assessore all'operatività Enzo Belloni che ha immortalato una donna che stava chiedendo l'emosina a due passi dalla piazza del popolo spacciandosi per una sedicente non udente. In realtà si tratta di una di vari falsi sordi che mi indicano aiuto e che come si vede da questo video Belloni ha appenninato in bicicletta fino ad accompagnare la donna verso un controllo di polizia. Controlliamo? Chiamiamo la polizia, sto chiamando, sto chiamando la polizia, sto chiamando la polizia, non ti preoccupare, adesso arrivano, fanno camminare un pochino, finti sordi, adesso la signorina va a prendere il compagno che la caricherà sulla macchina, andiamo un po', fin tanto che arrivano i vigili, non dategli niente, ho questa camicia qui, adesso la faccio camminare un po' stamattina, aspetta, no, devo stare dietro a queste, finti sordi, aspetta che arriva la polizia un attimo, vieni con me, domani il ministro con delega alla protezione civile Nello Musumeci sarà nelle Marche per un confronto con i territori colpiti dalle alluvioni per le quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza suscettibile però di integrazioni, alle 15.30 il ministro sarà a Senigallia per incontrare i comuni colpiti dall'alluvione di settembre 2022, alle 17.30 arriverà a Pesaro nella sala del Consiglio Comunale per il confronto con i sindaci dei comuni della provincia pesarese danneggiati dall'ondata di maltempo dello scorso mese di maggio. Grazie Valchiria, è questo il titolo dell'incontro in programma a Pesaro giovedì 13 luglio alle 21 nella sede della Fondazione 25 Aprile di Via Salvatori in memoria della partigiana Valchiria Terradura scomparsa la scorsa settimana all'età di 99 anni. La donna fu un simbolo della resistenza, fu comandante della squadra Settebello della Quinta Brigata Garibaldi Pesaro e fu un signito della medaglia d'argento al valore militare. In occasione dell'incontro sarà proiettato anche il docufilm Valchiria, una guerriera sull'Appennino con la regia di Gianfranco Boiani e la ricerca storica di Giorgio Bianconi. E domani, secondo appuntamento per la decima edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa, la rassegna poetica e musicale ideata da Laura Corraducci e organizzata dall'Associazione Amici della Prosa. Domani mercoledì 12 luglio alle 21 nelle cortile dei Musei Civici interverranno Alessandra Corbetta e Ivan Crico mentre Lella De Marchi curerà il tributo a Silvia Platt. La serata sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook di Vaghe Stelle dell'Orsa in una diretta a cura proprio di Rossini TV. Ed ora invece ci occupiamo della Notte Bianca di Vallefoglia che si terrà sabato 15 luglio. Cene, drink, concerti, DJ, giochi per i bambini e divertimento per i più grandi. È da poco iniziato il mese di luglio e a Vallefoglia si respira già l'aria di Notte Bianca. La White Night 2023 è pronta ad accendere il suo animo divertente sabato 15 luglio dalle 19 a notte fonda. Tutta Vallefoglia sarà coinvolta. Una festa on the road che partirà da Montecchio fino ad arrivare a Cappone passando per Bottega e Morciola. Saranno circa una trentina i locali e i negozi che per l'occasione resteranno aperti regalando vitalità ad una manifestazione diventata ormai tradizione. Siamo all'incirca sulla trentina di attività poi quelle ufficiali diciamo che propongono intrattenimento e propongono cibo e cene a tema quelle sono come dire sono già incluse in queste ma ce ne sono tante altre che non sono scritte a cartellone che terranno aperto per la possibilità che appunto c'è in questa serata di poter stare aperti con il commercio. Come nelle precedenti edizioni il bus navetta sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 19. I due mezzi collegheranno per tutta la notte gli spazi degli eventi con 10 fermate spalmate sull'intera aria. Si riconferma l'utilizzo degli autobus navetta quindi i due white bus che collegheranno la festa. Fondamentale sia dal punto di vista della sicurezza ma anche dal punto di vista della fruibilità dell'evento perché poter fare 3 chilometri di tracciato in tranquillità su un autobus che mi ferma ad ogni evento secondo me è uno dei punti di forza di questo evento. Le persone sembrano molto come dire interessate all'iniziativa di quest'anno c'è un buon riscontro anche in termini di informazione stiamo a vedere speriamo e siamo sicuri che sarà una buona edizione. Secondo me quest'anno riuscirà molto bene perché si ritornate alla normalità e Vallefoglia c'è oramai su tutte le questioni principali quotidianamente è un territorio molto vivace e quindi le sue attività diciamo di enogastronomiche di divertimento musicali le attività anche ci sono tre attività di pubblici spettacoli che possono fare musica fino alle tre e quattro di notte compatibilmente con quelli che devono anche dormire e speriamo soprattutto che ci sia attenzione perché non succeda nulla insomma che quando gira tanta gente bisogna sempre avere quell'attenzione necessaria c'è anche l'elemento del pane al centro della natura della cultura tema di Pesaro 2024 ma in questo senso la mostra personale di Giorgio Bramante Donini inaugurata a Sabolo e visitabile fino a settembre ai musei civici Incentrare l'attenzione sulla vicenda del pane che per Pesaro 2024 deve essere il light motive cioè un simbolo di accoglienza quindi io sono stato stimolato da una serie di discussioni che poi sono nei team che stanno lavorando per questa opportunità che è Pesaro città della cultura italiana 2024 e mi sono ritrovato a parlare con spesso volentieri per affinità elettive anche per stima con Daniele Rimini l'assessore alla bellezza per far sì che questo discorso potesse andare a finire proprio con questo simbolo che dovrebbe essere il riconoscimento di questo territorio che parte dal mare di questo lago adriatico lo chiamo così fino all'entroterra dove si producono dei pani meravigliosi i pani come chiaramente simbolo di creazione ma soprattutto è la comunanza intorno a delle pietanze che possa essere un simbolo di un territorio che ha molte cose da raccontare una sorta di prologo che serve per accogliere la gente che verrà nel 2024 noi speriamo e questa è una cosa che mi ha affascinato moltissimo allora è partita la ricerca perché sono figlio di Fornai e questo è quello che oggi ho cercato di rappresentare dentro chiaramente gli spazi del museo civico quindi ringrazio Daniele Vimini Marcello Smarrelli e tutto il team che organizza queste iniziative per la cultura per questa iniziativa molto importante di cui noi tutto il territorio dobbiamo capire l'opportunità quindi chi ha un'idea che ha voglia di fare conoscere i propri pensieri rispetto a questa vicenda che dovrebbe accomunare tutti dovrebbe veramente partecipare di più e vedere che cosa poter fare io ho fatto il mio ho disegnato un mondo tornando dietro nella memoria di una famiglia che ha fatto solo roba da mangiare quindi il pane il primato di tutte le cose che servono per la sussistenza ma nello stesso per me è un valore estetico che mi ha permesso di sviluppare delle immagini che vanno oltre alla consistenza di un pane vele proprio ed ora ci occupiamo di sport la carpegna prosciutto basket pesero ha ufficializzato l'ingaggio dell'americano Quincy Ford alla forte classe 93 che approda alla VL dopo aver disputato l'ultima stagione in Ungheria all'Alba Fair con 12,4 punti di media e 7,4 rimbalzi a partita per coach Buscale si tratta di un innesto di conclamata esperienza europea acquisita anche nei campionati tedesco belga francese e greco e restiamo in tema di sport il peserese Jordan Valdinoci due volte campione del mondo di kickboxing è stato premiato per le sue geste sportive dal consiglio regionale oggi è stata per me una giornata importante sono grato appunto per questo per questo riconoscimento e sono due titoli appunto titoli mondiali di kickboxing professionistici e l'ultimo è quello del titolo mondiale ISCA di kickboxing conseguito il 25 marzo di quest'anno 2023 al casino di campione d'Italia mentre l'altro lo vinsi nel 2021 a Monaco di Baviera al Deutsche Theater di Monaco di Baviera e quindi grazie appunto a questa vittoria sono attualmente detentore di entrambi i titoli e questo per me è una grande soddisfazione dopo tanti sacrifici e tanto impegno e speriamo sia ecco un altro punto di partenza come sempre prima di tutto sul territorio abbiamo una palestra che si chiama la Fight House Pesaro di quale sono appunto il direttore tecnico e quindi alleno amatori dilettanti anche atleti professionisti altri e quindi la divulgazione dello sport e anche da una parte lo sport per tutti e dall'altra uno sport anche appunto professionistico a livello dilettantistico quindi agonistico sicuramente amatoriale agonistico mentre a livello internazionale sono impegnato da un po' con vari atleti di spessore a livello internazionale per quel che riguarda soprattutto l'MMA che è uno sport simile e collaboro con la UFC che a questo momento è la sigla più importante al mondo in termini di appunto di MMA di sport da combattimento che è negli Stati Uniti e quindi faccio vari seminari in giro per il mondo e alleno atleti appunto professionisti statunitensi e latinoamericani ed ora concludiamo il nostro telegiornale andando a scoprire uno spazio estivo di ristorazione e intrattenimento sulle colline di Monbaroccio il piccolo mondo garden è un po' variegato diciamo è polifunzionale abbiamo ecco una terrazza per vedere tempo permettendo anche in caso di brutto tempo abbiamo comunque una copertura con un gazebo a pagoda è apribile e chiudibile con le ventilazioni praticamente e poi abbiamo a disposizione una cosa una chicca diciamo ecco e abbiamo questa piscina a disposizione dove sarà in completo relax e quindi ci sarà sempre abbastanza tranquillità e riservatezza perché la piscina è privata quindi è a disposizione per i nostri ospiti sia al mattino diciamo dalle 9 in poi e anche a pomeriggio dalle 14 o 14 e 30 in poi una piscina privata con vicino un annesso un fienile un vecchio fienile ristrutturato dove possiamo fare ecco cocktail aperitivi happy hour o anche qualche cena di riguardo o cena di gala per dire per come per qualsiasi diciamo richiesta ecco dei nostri ospiti e clienti la novità di quest'anno che abbiamo inserito il venerdì sera ci sarà sempre comunque la serata dedicata diciamo alla musica la musica o musica spettacolo anni 70 80 e 90 oppure musica 360 gradi con un corpo di ballerini di ballo che coinvolgono con gruppi diciamo musicali e ballerini che intrattengono la serata praticamente settimanalmente mettiamo in onda su facebook o sul sito web sul nostro sito piccolomondoonline.it il programma praticamente della settimana e comunque il prossimo evento sarà il ferragosto che ci sarà praticamente piscina mattino pranzo al giorno e con un menu dedicato e un prezzo popolare e poi pomeriggio piscina e anche alla sera ci sarà praticamente il menu dedicato o alla carta la sera e sarà liettato anche con della musica tutto il giorno e si conclude qui questa edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che vede alle 21.20 presentarvi il corso di formazione online per il concorso di magistrato tributario a cura di form e l'ex appuntamento alle 21.20 poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e si chiude e si chiude qui invece l'informazione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio